salve a tutti i cristallini e cristalline salve salve cristalline oggi sono qui con Sofì per aprire due buste surprise allora una è bimba e una è incognita non si sa non ho trovato cosa c'era scritto e tra l'altro non si vede perché è tipo plastica bianca ma è tipo pesantissima quindi l'ho presa allora questa di qua io spero che non ci siano rimasti gli trampoli strani perché sinceramente spero di non trovarli più da quale iniziamo? ok da quella questa è bimba al bar no è bimba al contrario ah è una senza ok apriamola iniziamo uno alla volta cioè non ti le pare tutta questa cosa snack bags se vuoi mettere i snack da qualche parte ecco qui gli snack bags ti piace tiro il viola il blu il teletubbies manca solo quello giallo qual è il tuo teletubbie preferito? qual era il teletubbies? se mi ricordo il viola il verde il blu non c'era il viola no forse il viola che non c'era c'era rosso non c'era viola c'era giallo se mi ricordo il rosso verde giallo e glu vabbè comunque carine carine c'è un senso delle borsine carine ci metti gli snackini snackini oltre cose che non sono snackini ho sempre cosine in resina eccetera eccetera che non so dove mettere quindi ok mi piace allora queste queste buste surprise sono da 4 euro quindi cos'è un giocattolo per i cani? dimmi che è per il cano per il gatto skip board non è per i cani ne è per il gatto è per fare inciampare a me cioè io dovrei attaccarmi questa lavaviglia e farlo girare se la cosa tipo di saltare sopra ecco fallo da solo per fare tipo questo gioco di qua vabbè non lo farò mai probabilmente lo darò al cane o forse no ok va bene ti spero che ci sia qualcos'altro perché ancora cos' ok mi piace mi piace mi piace gli stickers sono un pochino decolorati mi piace è cool è carino è carino no vabbè con tutti i piratini carino questo mi piace oh no cioè il coso cos'è sta cosa non mi direi che è un'altra cosa strana da giocare cinesis jump rope cioè e vuoi saltare sopra la coda in cinese gioco dell'elastico questo è proprio quello che vuoi è proprio un elastico non so elastic ok 4 euro finiti finiti va bene allora 4 euro 4 articoli ormai cioè non conviene più questo è meglio del resto a me piacciono questi due sì 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 gli altri non non tanto ok ora considerando che in questa bustina di qua abbiamo stick si vedono cose bianche potrebbe essere doppione sì 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 per anonymous bug perché è molto anonymous non so se c'è niente vai col primo oggetto un guanto cos'è un guanto con dieci fili dieci girini blu dieci girini rosa la scatola di spezie sconosciute la scatola è degna di essere dentro la surprise di tiger decorati per le uova oddio che ho lanciato non ci troppo se non ci troppo qualcosa non ci troppo si è infilato qua dentro ah beh un ago non è un ago questo è uno stylus per di essere purposato ok questa cosa no due guanti più non voglio di ripeterlo non ho voglia di cioè due guanti ripetere questa eppure questa stessa piena con le stesse identiche cose no qua ci sono un sacco dei lotti non ho visto ah ecco perché non ho visto uno ma l'altra volta ci stanno ok come stesse identiche cose kit per decorare le uova ma è più a pasqua poi altre cose stickers adoro no va bene ma guarda che carini siamo in estate ci sta let's go to the beach and mangia gelato it's and no che che oh guarda che bello questo con l'unicorno adoro però quello con i gelatini è fantastico tutte le faccine che vuoi ok bellini c'è altro cos'è è una cosa che si è appicciccata dammi un attimo ecco non c'è altro mi sa è chiuso è anche è anche richiuso è richiuso addio è lanciato cosa c'è cos'è click uno specifista non mai è un che vuoi stick vai apri questo l'ho visto tante volte cioè l'ho visto in vendita mi pare che costi tipo 2-3 euro bullet planner sono tanti stickers o se o se è tutto uguale cambialo ma non si trovo così non c'è niente del genere no cioè tipo ora faccio pure ridotto male no ok ecco perché era là ok yes era là per questo ok allora tra le due misteri preferisco l'altra io preferisco questa però le uova preferisco questa però questa mi piaceva anche tanto per rember mangiate sabbia questo bellino anche queste bustine sono tanto carine vabbè ok sto giro mi piacciono mi piacciono tutte e due i stickers sono fantastici ovunque bellissimi però questi brillano sprinkle ok mi piacciono tutte e due questa volta sì dai ci può stare un po' meno per questi due giochini questo qua e questo qua però va bene dai carini molto carini ma ti so se sono trasparenti questi sì sono trasparenti sì sì vabbè quindi alla fine io vado per questa e tu per questa ci può stare erano carini entrambi e niente ragazzi io spero I like the gloves e niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi ha mantenuto compagnia e non ci vediamo in un prossimo video ciao ciao